Bene, allora adesso direi che i prossimi a entrare arriveranno a riunione già iniziata. Allora, buonasera a tutte e tutti e tutto, come al solito. Questo è il secondo evento della seconda serata della Rassegna. Grazie a tutti i partecipanti collegati, grazie Claudio e grazie Leo, che è il nostro ospite di questa sera. Allora, adesso brevemente che introdurrò, insomma, per chi già non ti conoscesse, Leo Eseblana in arte fa il tatuatore professionista, attualmente è collocato allo studio Nord Tattoo in centro a Belluno, però non è originario di Belluno, in realtà Leo è di Poggia. Poi ha svolto degli studi a Bologna, è stato ospite in studi rinomati a Berlino, a Londra e poi nel 2017 è arrivato qui da noi, nelle montagne. E allora è rimasto qui. Quindi benvenuto, il tema della serata è corpi mortali, capiremo man mano di cosa si tratta appunto. Quindi ti chiederei subito, per cominciare, come ti sei approcciato a questo mestiere, a quest'arte e perché proprio questo e non qualcos'altro? Ah, è stato... ciao a tutti prima di tutto. È stato un po' casuale in realtà, perché io ho sempre amato dipingere, disegnare, fin da quando ero più piccolo. Il tatuaggio è arrivato un po' tardi, quando ho iniziato appunto a farmi dei tatuaggi su di me, farmi tatuare da altri, intorno ai 19-20 anni, le prime volte. E da lì ho avuto l'illuminazione di provare a farlo come mestiere, insomma. Già che fare disegni, fare dipinti, fare fumetto, che è quello che mi piaceva all'epoca, era un po' difficile da sviluppare a livello lavorativo. Il tatuaggio è nato un po' così, per collegare un po' la mia passione del disegno a un mestiere, che poi è un mestiere artigianale, per tutti gli effetti, insomma. E quindi è partita un po' così. Poi ho iniziato a tatuare amici, pian piano amici di amici, conoscenti, parenti, che si sono prestati da cavie. Fino a che non ho avuto un po' di tranquillità di poter tatuare gente che non conoscevo, e quindi ho iniziato a cercarmi uno studio e a farlo in maniera professionale, appunto. E c'è un motivo particolare per cui Belluno è in un altro posto o è stato un caso? È stato anche quello un po' un caso, perché quando ero a Bologna, nel periodo in cui ho lavorato un po' lì, ho conosciuto un ragazzo di qua, di Feltre, che a sua volta era un amico caro di questo ragazzo Federico che è allo studio a Belluno, il North Tatooine, appunto, come dicevi prima. E tramite questa conoscenza in comune ci siamo messi in contatto, abbiamo iniziato a conoscerci, a lavorare pian piano insieme, a collaborare. Ecco, lui è venuto a Bologna da me, io sono venuto a Belluno le prime volte a trovarlo ed è nata un po' così per caso la collaborazione e poi dopo l'amicizia. E mi è piaciuto così tanto, insomma, qui che il territorio, i ragazzi, quelli che avevo conosciuto, insomma, che ho deciso di provare a trasferirmi e di iniziare appunto a collaborare in maniera stabile con lui e adesso sono qua da tre anni, ecco. Grazie, allora io proietterei sullo schermo qualcosa, qualcuna delle tue opere. Andiamo dal d'inizio. Ti chiederei, tu hai qualche fonte di ispirazione particolare? Come fai? Senti, a livello di artisti o di immagini? Mi sa che c'è un problema di collegamento. Oh, è mio, mi sentite? Adesso sì. Bene, allora scusami, ti sei bloccato per un attimo. Ah, ok. Quindi intendevo dire, hai qualche riferimento estetico sia a livello di autori, sia a livello di iconografie o comunque di simbologie? Qualcosa che... Ok, ok. Guarda, ti dico, a livello di immagini, sì, sicuramente, fin dall'inizio, anche fin da prima di tatuare, insomma, mi è sempre piaciuto l'immaginario un po' macabro, horror, comunque immagini abbastanza forti. Sono stato sempre criticato per questo da mia madre, che avrebbe sempre voluto che disegnassi fiori e margherite e basta. E invece ho sempre amato teschi, insetti e robe così, un po' oscure, perché comunque mi hanno sempre attirato proprio come estetica, oltre che per il significato, insomma. Mi piace molto esorcizzare quelle che sono le paure che ognuno di noi può avere e quindi cerco di buttare nel tatuaggio, nell'arte, comunque nel disegno, eccetera. Proprio questo tipo di soggetti spesso, non perché sia triste o pessimista o altro, ma proprio perché voglio buttarli fuori, capito? Sì, a livello di immagini, iconografia, eccetera, prendo spunto da tanta arte, da tanti artisti, fumettisti, da altri tatuatori ovviamente contemporanei o tatuatori più vecchi degli anni 70, 80, così, 60 anche. Continuo comunque a fare ricerca giorno per giorno, comprando libri e guardandomi intorno, insomma. Cerco l'ispirazione in ogni piccola cosa, in ogni piccolo dettaglio, anche per dirti se vado a vedere una chiesa, un posto nuovo, magari fotografo dei dettagli che mi colpiscono, dei teschi o delle altre robe che vedo e che dico, ok, questi potrebbero essere dei disegni per tatuaggi, rielaborandoli, insomma, ecco. Quindi questa è, diciamo, la mia fonte principale, l'osservazione. Quindi, ad esempio, se ti chiedessi una microinterpretazione di quello che stiamo vedendo adesso, ci potresti dire qualcosa, magari per chi non è così avvezzo, insomma. Allora, quello che stai adesso proiettando sono, credo sia il tatuaggio dei piedi, giusto? Sì, sì. Ok, vabbè, questo qui, ad esempio, ti direi, questo qua è più su un, sì, un, diciamo, un tatuaggio che proviene da, dalla cultura tribali berbere, ecco. È una rielaborazione di tatuaggi tribali ed è sarebbe comunque una spina di dorsale di serpente stilizzata nella mia testa, ecco, è comunque nell'immaginario di quelle culture lì ed è un tatuaggio di protezione, è una sorta di amuleto protettivo per chi lo porta. E il ragazzo che l'ha fatto, insomma, voleva un tatuaggio molto potente, una sorta di sintillo sui piedi e quindi gli ho proposto questo disegno qui. Grazie. Scusate se interrompo un attimo la conversazione, ma devo chiedere a tutti quanti di spegnere il microfono, per favore, se non l'avete già fatto. Grazie. Dopodiché, volevo chiederti, anche partendo da una citazione di un tuo collega tatuatore che non so se conoscevi già, non so neanche pronunciarlo correttamente, credo, Pascal Touren, dice che il tatuaggio è un'opera eterna su un supporto effimero, che da qui prende anche il nome della serata, tendenzialmente, perché questo supporto effimero è proprio il corpo, mentre l'opera eterna passa attraverso l'inchiostro, quindi oltre che per l'autore, per il tatuatore. Tu mi hai avuto qualche pensiero analogo a quello che ha espresso questo personaggio, insomma, se operando, se tatuando, o anche ideando un tatuaggio stesso, prendendo spunto, ispirazione dall'osservazione, come dicevi prima, ti è mai capitato di cogliere queste particolarità, anche perché hai fatto riferimento a degli elementi estetici, ma a Capri appunto, quindi mi chiedevo questo. Sì, 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 sicuramente condivido appieno come frase, come pensiero quello lì, del collega, anche se in più aggiungerei che oltre che il corpo, diciamo, non è eterno, insieme adesso anche il tatuaggio, alla fine diventa effimero e passeggero. Infatti, secondo me, secondo altri, insomma, c'è una disputa tra il tatuaggio che sia arte, sia, non sia arte, sia solo una forma di decorazione artigianale, insomma, un mestiere non sprettamente collegato all'arte vera e propria, ok? Perché? Proprio perché un tatuaggio che qualcuno riceve sul proprio corpo non può essere venduto, non può essere tolto e dato ad altri, non può essere pagato per poi rivenderlo come un'opera qualsiasi, ad esempio, quindi se compri una tela, sì, puoi fare un investimento perché è un'opera d'arte che magari frutterà più in là ancora di più di quello che è stata pagata, mentre il tatuaggio andrà solo a svalutarsi perché è il supporto che lo porta, appunto, è la pelle, quindi andrà a invecchiare, andrà a deteriorarsi, andrà anche a cancellarsi in alcuni casi, per dire dopo 20-30 anni magari un tatuaggio perde inchiostro, perde definizione, non è facile conservarlo e poi quando appunto il corpo finisce la sua vita, il tatuaggio con esso sparirà, quindi l'unica prova tangibile di un tatuaggio è la foto che tu gli scatti, ecco, non è come un'altra opera che rimane lì forse per l'eternità. Ok, quindi io penso, appunto, non so se dire, se chiamare tatuaggio arte, per quanto sia, sì, ci sia una dose di artisticità, sicuramente di inventiva e di abilità, però è un po' un argomento così, insomma, che ancora non riesco neanche io a chiarire e definirmi. Io preferisco chiamarmi, cioè, definirmi artigiano più che artista, ecco, se parlo di tatuaggi. Poi se dipingo, magari sì, può essere chiamata più, sì, dipinto, arte, come vuoi, insomma. Grazie, infatti, è anche curioso che si parli spesso di tele, parlando dei corpi che vengono tatuati, almeno io l'ho sentito spesso come termine, poi non so se sia effettivamente usato anche... Per me è un termine sbagliatissimo da usare, sì, lo usano in alcune trasmissioni, magari, ecco, televisive, tipo programmi sul tatuaggio americani, così, che secondo me distorcono molto la realtà dei fatti, ecco, uno che vede quei programmi lì non si immagina il vero rapporto che c'è tra una persona che si tatua e il tatuatore, non è una tela, assolutamente, secondo me è offensivo chiamare il cliente quello che tatui tela, perché non è una tela, una persona che ha il suo carattere, tu come tatuatore devi saperlo comunque, apprendere e lavorare con lui più che su di lui, ok? Quindi cercare di condividere l'esperienza, secondo me è importante. E già questo appunto toglie un po' l'artisticità del gesto, perché un artista non vuole parlare con la sua tela, non vuole lasciare decidere, seppur minimamente alla tela, ecco, come deve essere fatto all'opera. Invece un tatuatore deve per forza avere a che fare con una persona viva, ecco, che parla, che gli dice questo preferirei farlo così o non vorrei questo, ok? Quindi questo limita molto, secondo me, anche l'aspetto artistico. Sì, in effetti non avevo, almeno io personalmente, non avevo mai considerato questo altro lato dell'aspetto, l'ho sempre associata molto di più a un'arte tradizionale, se non che comunque, diciamo, che viene associata a un tipo di pratica che non si chiamano solo artistiche, ma di modificazione corporea. Quindi è proprio una ritualità in questo essere attiva su un corpo vivo, ecco. Ed è una cosa che ovviamente non si può dare due volte nella stessa maniera, sebbene sia sempre la stessa cosa, diciamo, che sta avvenendo proprio a causa di queste diversità. Perciò volevo chiederti tu, in effetti, quindi riconosci una ritualità all'interno di questa pratica o no? Ecco, quello sì, sicuramente sì, assolutamente sì. Vedo proprio appunto tutto il processo come un rituale molto spesso, ecco, non sempre. Magari alcune volte il tatuaggio è anche un'esecuzione un po' più impersonale, magari perché facciamo un tatuaggio che non ci fa impazzire o un tatuaggio molto semplice, qualcosa di non veramente sentito dalla persona che lo riceve, ecco. Però, come nel caso del tatuaggio dei piedi che abbiamo visto prima o del braccio con la spalla, insomma, che c'era prima, poco fa, questo qui ad esempio, questa è l'ultima seduta di sei, sette sedute per finire e completare un braccio intero. La parte, diciamo, di su che vedete è sanguinante perché appunto è stata l'ultima seduta e quindi la foto è stata scattata subito dopo aver finito, quando ancora non era, non aveva smesso di sanguinare del tutto. e secondo me è già questa cosa qui di affrontare sei sedute nel tempo, di avere la costanza, la perseveranza di portare avanti un progetto resistendo al dolore e, diciamo, volendolo a tutti i costi terminare per sentirsi completi con il nuovo, la nuova parte del corpo perché poi alla fine si ti modifica tantissimo a livello estetico. Secondo me è comunque già un rituale. Il rapporto che si viene a creare con clienti di questo genere che stanno con te ore e ore e ore, ovviamente è un rapporto molto intimo, molto personale. e sì, io trovo che sia proprio un piccolo rituale, anche per certe piccolezze che man mano si vengono a creare in automatico. Ad esempio la musica che metti, che condividi con la persona che stai tatuando in quel momento, oppure il fatto di andarsi a prendere il caffè, stare insieme, parlare prima del tatuaggio, durante e dopo. Secondo me è tutta parte del rituale, ecco. Non è una roba tipo di Eni, voglio questo, te lo tatuo zitto e ciao. Per me deve essere uno scambio, ecco, reciproco, anche magari sapere da chi sto tatuando un po' della sua vita e quello che sente, quello che pensa e mi aiuta comunque meglio a tatuarlo e entrare nella sua psicologia. Infatti adesso mi collego anche a una vicenda personale proprio con te. Infatti Leo mi ha tatuato, mi ha fatto un oroburo che sarebbe, non so, questo, sostanzialmente un serpente che si mangia la coda, detto in parole poverissime, che ha tutta una simbologia dietro che ho insistito per fare a livello minimale, nonostante c'era anche questo scambio per cui mi è stato suggerito di aggiungere dei dettagli. Parto da questo esempio concreto, proprio anche perché spesse volte, almeno nella mia cerchia, associamo il tatuaggio anche a una specie di memento mori, una sorta di esorcismo che comunque ti costringe ad avere un impatto visivo, quindi estetico, nel senso di estesi, di sensazione, che è non solo l'impatto che hai quando vedi il tuo corpo trasformato, ma l'impatto che hai nel mentre della trasformazione, mentre sei lì steso, che parli con qualcuno che sta trattando la tua materialità, la tua carne e lo sta facendo apportandovi qualcosa di simbolico, quindi spirituale, sempre ricollegato anche alla domanda di prima. Quindi è vero? Hai visto per caso questa ricerca di esorcismo, diciamo, di attribuzione di senso a quello che può essere uno scenario più macabro, più lupuoso? Anche ad esempio chi si tatua delle date importanti, è una cosa che avviene spesso o no? Beh, ti dico, se riesci a mettere l'immagine un po' quella più avanti del teschio con il serpente, ecco, tipo questo qui è un ragazzo che voleva proprio un memento mori, come dici tu, esattamente quello, che rappresentasse un po' il peccato originale, e quindi, sì, capitano alcune volte persone che vogliono un tatuaggio così, che rappresenti un po' questi concetti un po' macabri, alcune volte magari sì, qualche persona che mi chiede di fare un tatuaggio per un caro che se n'è andato, o sì, anche per esorcizzare appunto alcune paure, come dicevo prima, motivo per il quale faccio molti soggetti di questo genere qui, sia per il mio gusto, ma anche perché poi alla fine vado a incontrare il gusto di clienti che hanno un po' questa visione qua, come anche te nel caso specifico. E questa sorta di catarsi, quindi diciamo, credi che possa valere nella stessa maniera, nella stessa misura, per il tatuaggio e per altre pratiche, come può essere, penso al piercing stesso, o eventualmente cose un po' più estreme, come adesso non so il termine tecnico, quegli impianti che si fanno a certe persone sottocutanei, oppure la scarificazione direttamente, che probabilmente appartengono meno a quest'ultime, alla nostra cultura, però che comunque esistono, hanno lo stesso valore? Esistono e secondo me hanno un valore un po' diverso, perché almeno secondo me, ecco, il tatuaggio normale, diciamo, quello inteso come quello che faccio io, ecco, non è un processo così violento da metterlo a paragone con la scarificazione o con impianti sottocutanei o robe del genere, ma è più una cosa mentale, secondo me, spirituale e mentale, mentre invece magari il piercing o questi interventi un po' più veloci ma violenti, sono più per sentire sensazioni forti, magari fisiche, per una voglia di provare qualcosa sulla propria pelle di molto estremo, ma che duri poco, ecco, invece il tatuaggio secondo me è più da affrontare con la testa, con calma, alla lunga, perché appunto è un dolore leggero, ma molto prolungato magari, ecco, il tatuaggio può durare anche 4 ore, 5 ore, poi dipende dalla resistenza e dalla voglia di ognuno. Sì, quindi questo è un rapporto prolungato e forse anche questo, adesso mi ricollegherei anche a un altro argomento, può essere stato un elemento di ulteriore problematicità in questo periodo di Covid, specialmente durante il lockdown, perciò ti chiederei come si è evoluto il rapporto non solo tra voi, i tatuatori e i clienti, che magari avevano anche qualcosa in sospeso e si sono visti fermi, che immagino sia successo anche, oppure il rapporto che avete, che hai, almeno tu con l'estetica soggiacente a quello che stai trasmettendo, insomma, se è cambiato qualcosa, se queste riflessioni, questo scenario, questa chiusura e queste ripercussioni, non solo materiali ma anche simboliche, hanno avuto una portata su, appunto, la dietrologia. Guarda, sì, sicuramente è stato un periodo particolare, ho avuto molti clienti, molti amici che erano lì, magari lasciati a metà, con lavori incompleti, per tanti mesi non ci siamo potuti vedere, non ho potuto finire questi lavori e hanno, smaniavano di continuarli, ecco. Infatti non hanno aspettato un giorno da quando si poteva fare per poter riprendere l'appuntamento, per poterci rivedere e continuare dove eravamo rimasti. Quindi ti dico, la gente non ha, almeno per quanto mi riguarda, non ho visto grossa paura, anzi una grande voglia di ritornare alla vita normale, di concedersi anche le piccole cose come appunto il tatuaggio, che sono comunque spizzi, secondo me rimane sempre un bel passatempo, un bel modo di, anche una passione per alcuni, devo dire, diventata, perché c'è gente che magari si è fatto un tatuaggio e poi si è appassionata parlandoci alla cultura del tatuaggio e poi ha iniziato a fare lavori più grandi su di sé, quindi ad appassionarsi. E ho più di un cliente che è diventato anche magari un amico, in questa maniera. Devo dirti che a livello di, io di, diciamo, ecco di sicurezza, sicuramente il rischio è sempre alto quando si ha a che fare a stretto contatto con le persone adesso, però dall'altra parte la nostra categoria, almeno chi lavora come si deve lavorare, è forse tra le più sicure, proprio perché abbiamo sempre avuto mille accortezze già da prima del covid e adesso continuiamo a fare le stesse accortezze, magari qualcosa in più, quindi sono abbastanza tranquillo per quello. Sperando che continui, insomma, che possiamo continuare un altro po' a lavorare, sì, io sono tranquillo, sto lavorando e sono attento, i clienti sono tutti attenti, tutti precisi, almeno sono molto contento di questo. Quindi ti chiedo anche per curiosità, tutti quegli incontri che si vedevano spesso, ospite esterno, ospite esterno, comunque si riescono a continuare a fare o adesso avete bloccato? Ma ti dico, adesso siamo un po' fermi su quell'aspetto lì, ma anche forse da poco prima della chiusura, eccetera, eravamo un attimo, avevamo un attimo rallentato perché era un periodo di tranquillità, diciamo, nostra in cui volevamo dedicarci di più allo studio, insomma, alla tranquillità di noi due nello studio senza avere troppa gente nuova intorno, senza troppe distrazioni. Volevamo concederci un attimo di, sì, ecco, di, diciamo, di stallo, ma più che altro per studiare meglio alcune immagini, alcune robe, alcune, sì, fare ricerca, ecco, ogni tanto c'è il periodo di ricerca, ogni tanto c'è il periodo in cui si spinge, si fa incontri, si condivide con altri. Questo era un periodo di tranquillità in ogni caso. Quindi, in realtà, è anche un messaggio molto positivo che stiamo dando, nel senso che questa chiusura comunque ha avuto degli spazi di ricerca, appunto, di crescita. Credi che cambierà qualcosa a lungo termine comunque nel modo in cui operate o appunto come dici tu, siccome già da prima c'erano particolari attenzioni alla cura del cliente dato che è un ambiente comunque molto rigido, insomma, si può entrare una volta e fare un credit che cambia granché. Secondo me, per noi, per me almeno non cambierà quasi nulla a parte mascherina ma tutto il resto è sempre stato così abbiamo sempre fatto entrare il cliente sì, ecco, magari prima c'era l'amico che si affacciava di più adesso quello meno adesso quello non è possibile purtroppo comunque è anche bello condividere con gli amici alcune volte questi questi momenti però vabbè, a parte questo sì, che un po' la socialità la convivialità del tatuaggio dello studio eccetera quello sì è l'unica cosa che viene un po' a mancare a livello tecnico ci cambia poco a livello emotivo a livello di condivisione con gli altri eh sì quello un po' è un po' diminuito sarà così per un po' speriamo che si possa ritornare insomma alla insomma la tranquillità di poter fare entrare una persona in più a guardare tanto quello sì sicuramente eh sì lo speriamo tutti immagino quindi se ti chiedessi invece domanda non programmata se ti chiedessi invece questo periodo questo covid che tatuaggio sarebbe che tipo di tatuaggio sarebbe non lo so guarda ti dico nel periodo di di lockdown vero e proprio ho dipinto parecchio eh ho fatto parecchie parecchie parecchi acquarelli qualche tela insomma un po' di 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 dipinti così molto incentrati sulle mie sensazioni del lockdown del covid eccetera quindi ti dico se dovessi tradurlo a livello di tatuaggio non so forse un'ampolla con dentro un teschio o qualcosa del genere potrebbe essere un tatuaggio rappresentativo una pozione mortale non lo so mi vedo una cosa del genere o comunque la sensazione di di solitudine ecco quella mi ha fatto parecchio mi ha ispirato parecchio nel nel periodo di di chiusura la solitudine è tosta l'isolamento ecco grazie non so se adesso in realtà lasciare anche un po' di spazio più interattivo se qualcuno vuole intervenire se tu vuoi aggiungere qualcosa a ruota libera insomma se qualcuno ha qualche domanda proveri a rispondere come al solito se qualcuno è timido può scrivere nella chat sì Claudia, non so, io condividendo lo schermo non riesco a vedere la chat, tu vedi qualcuno che ha scritto? Non ti sento. Mi senti? Non stavo chiedendo a Claudia se vedeva qualcuno in chat appunto, però il microfono è abbassato. Scusa, mi ero disattivata e non mi... Allora, finora non vedo nessuno che ha fatto domande, ma ne faccio una io perché sono molto curiosa visto che così. Allora, io sono di un'altra generazione. Quando io ero giovane i tatuaggi li avevano in marina, ai scaricatori di porto, non so, è una cosa molto così, insomma che si facevano solo un certo tipo di persone. Adesso se le fanno tutte, insomma molte persone, io non l'ho mai fatto e uno delle mie riserve è come dire proprio quello di dire ma poi io mi faccio una cosa. È vero che tu prima hai detto che se ne va poi col tempo. La mia idea è sempre stata quella di farmi una cosa permanente mentre io cambio nel tempo e quindi di farmi una cosa che poi mi rimane e che poi magari non corrisponde più a me stessa, non so come. Allora chiedo se ci sono delle riflessioni su questa cosa e se capita spesso che uno voglia magari togliere su un tatuaggio o come tu semplicemente vedi questo aspetto. Sì, ti dico questa è una domanda interessante nel senso una riflessione che fanno parecchie persone magari soprattutto quelle incerte sul statuarsi oppure no perché magari molta gente dice adesso penso così, domani ho un altro gusto, domani la penso in maniera differente. Io sono d'accordo che non per forza appunto ci si debba tatuare che sicuramente i gusti cambiano nel tempo e i tatuaggi vanno appunto a deteriorarsi quindi sicuramente possono essere meno belli di quando appena fatti nel tempo. Però dall'altra parte io vedo il tatuaggio anche come diciamo marchio di un momento, un passaggio della tua vita che viene che viene impresso e che viene simbolicamente scandito da questo da questo simbolo che può essere condiviso o no nel futuro. Però comunque rimane come, ah mi ricordo quella volta in cui ho fatto questo tatuaggio, avevo vent'anni e non sapevo cosa fare della mia vita, adesso faccio questo. Ok, quindi il tatuaggio secondo me è significato, passa in secondo piano a volte dell'immagine che scegli in alcuni casi perché può anche semplicemente l'esperienza, farlo diventare significativo. Almeno io è così che la vedo. Grazie mille, una risposta perfetta, mi hai aperto degli orizzonti così di pensiero. Invece ci sono una serie di altre domande Stefano e quindi sì, ecco. Scusa Leo ti ho messo in muto per spazio. Grazie, grazie. Aspetta, hai visto le altre domande? Sì, sì. Allora, in realtà a livello di contenuto magari da inverto, perché forse quella di Yolanda Adepo si collega di più a quest'ultima cosa che abbiamo accennato, ossia chiede come cambia la percezione del proprio tatuaggio con le tasse. Ecco, può cambiare bene, può cambiare male, dipende da come il tatuaggio invecchia, ecco, secondo me, è il motivo per cui bisogna scegliere bene il tatuaggio, bisogna sentire il tatuatore, essere il tatuatore esperienza, perché fare un tatuaggio che ci sembra al momento stupendo, con magari mille dettagli, magari piccolo, come piace a molti in questo momento storico, con la linea molto piccola, tatuaggi di due centimetri per due, poi va a finire che tra dieci anni quei tatuaggi lì sono completamente illeggibili, quindi ovvio che uno non lo vive bene nel tempo. Se però, come vedete in questa immagine dei piedi, ad esempio, uno sceglie di farsi un tatuaggio, un sigillo del genere, stai pur certo che, insomma, negli anni resterà identico e non cambierà di una virgola, sì, ovviamente un po' la pelle sarà diversa, però il tatuaggio sarà perfettamente leggibile e sarà la persona che lo porterà, se ne è ancora contenta a livello estetico, sarà sempre, lo viverà sempre bene, ecco. Quindi io cerco anche di ragionare su questo discorso qua con molti miei clienti e fin dove posso cerco di convincerli di fare un tatuaggio che anche nel tempo possa essere leggibile. È bello, ecco. Vedo anche che qualcuno ha schiacciato la funzione alzo la mano, chiederei un attimo di aspettare che rispondiamo a queste due prossime domande che cerco di mettere assieme. Allora, una me la fa mia madre e una in chat, quindi in chat si chiede quali sono altre iconografie della morte usate nei tatuaggi oltre ai teschi e agli scheletri? E questa domanda ti chiederei se si può collegare anche a un altro, ossia se confermi quindi che ci siano due tipi di tatuaggi, diciamo, fondamentali, uno di tipo estetico e uno appunto simbologico riguardo al ricordo o magari per riempire o una di queste due insomma. Ti dico, ti rispondo. Allora, sì, ci sono sicuramente tante immagini che possono rappresentare la morte oltre che i teschi. Una ad esempio è appunto il serpente, secondo me è uno di quelli che più utilizzo come immagini. A parte perché mi piace a livello simbologico, appunto perché può rappresentare la morte ma anche è un simbolo di virilità, quindi comunque di vita. Il serpente, secondo me, è l'esempio esatto, perfetto per fare anche il paragone, cioè anche per unire a quell'altra domanda che mi fai e parlare di estetica e di simbologia di un tatuaggio. Il serpente, secondo me, sia simbolicamente valido che esteticamente piacevole e si adatta bene alle forme del corpo. A me piace disegnarli direttamente sulla pelle con il pennarello a mano libera e poi tatuarli proprio per cercare di piazzarli sul corpo in maniera sinuosa, in maniera esteticamente dinamica e gradevole. E quindi, secondo me, unisce un po' il significato all'estetica. Molte volte il tatuaggio non è estetico o simbolico, può essere tutti e due. Ecco, secondo me qualsiasi tatuaggio può essere simbolico e qualsiasi tatuaggio può essere estetico. Dipende uno dal significato che ci vuole dare e oltre al significato intrinseco che può avere un'immagine, qualcuno può decidere che il suo teschio significhi, non lo so, simboleggi un suo amico, per dire. Quindi, secondo me, il discorso non è distaccato tra estetica e simbologia. Grazie. Bene, allora in realtà adesso chiederei anche a chi ha alzato la mano di intervenire, se vuole. Conferma, diciamo, di storie che ho sentito, esperienze, anche collegandomi con il discorso di Yolanda riguardo, insomma, il farsi, i tatuaggi, diciamo, a livello simbolico. Mi guardo che in un certo periodo, diciamo, che i tatuaggi ce li avevano soltanto i marinai e io sapevo che una storia, ad esempio, quello che si dice, diciamo, di avere i tatuaggi dispari, questa cosa scaramantica, era di uso tra i marinai perché si facevano un tatuaggio prima di andare in viaggio, il secondo quando che erano arrivati a destinazione e il terzo quando che arrivavano a casa, se non sbaglio. Hai sentito a te questa storia? Sì, 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 mi pare di aver sentito una storia del genere, o comunque il fatto di il terzo tatuaggio magari era, sì, appunto, simboleggiava il fatto di essere tornati sani e salvi dall'avventura, dal viaggio. Esatto, sì, sì, sì. Ok, tutto qua. No, è bello, ci sono mille storie del genere comunque. Poi adesso molte storie si raccontano così senza magari neanche sapere bene questi piccoli aneddoti, ma semplicemente perché uno con la scusa di volerne fare uno in più, dice ok, devono essere dispari e ne faccio un altro. Poi se ne fa un altro diventano pari e via dicendo così. Esattamente. No, ma io, come dicevo prima, è comunque un reminder di un periodo passato che magari non è più condiviso, non è più attuale, però comunque resta parte della tua vita e della tua esperienza. Ci sta anch'io, anch'io, ci sta. Grazie, adesso provo a legare quindi questo a altre due domande. Quindi quella di Sonia Sacchetti in chat e un'altra di mia madre che è qua di fianco. Allora, Sonia chiede se le è mai successo di non voler rappresentare delle immagini, segni, simboli richieste dal cliente. E aggiungo se magari ti sei mai accorto invece che un cliente venisse da te con l'intento appunto di aggiungere altri tatuaggi al proprio corpo soltanto per riempirsi e in quel caso se hai tratto le considerazioni che hai poi detto al cliente e hai detto per caso che non si è intervenuto insomma a livello attivo con qualcuno che semplicemente vuole riempirsi senza connessione di causa. Ma guarda, allora partendo dalla prima mi è capitato di non tatuare, ti dico non mi è capitato credo mai di non tatuare qualche simbolo l'ho chiesto da un cliente perché di solito mi sono capitate sempre richieste accettabili a livello simbolico insomma niente di estremo, niente di troppo strano o brutto da tatuare. Quindi probabilmente perché la gente conoscendo il mio lavoro è attirata a un certo tipo di gente che vuole un certo tipo di tatuaggio. Quindi mi vengono chieste appunto immagini che specchiano un po' quello che mi piace, per fortuna ecco. Per quanto riguarda gente che voleva solo riempirsi, sì ce n'è tantissimo, capita. Mi è capitata qualche volta e l'ho presa oltre che poter insomma consigliare a una persona di non tatuarsi a tutti i costi come dicevo prima, non è importante, non è questione di vita o di morte. Ti puoi tatuare ma non ti cambia la vita, quindi non devi avere per forza le braccia piene se non hai nulla da appunto da voler esprimere o comunque se non hai una vera motivazione che ti spinge anche perché tatuarsi insomma fa un po' male. E quindi niente, alla fine molte volte ho tatuato anche gente che non era ben conscia di quello che faceva ovviamente non sotto effetto di alcol o droghe o robe del genere semplicemente gente che voleva tatuarsi solo per riempire le braccia come dicevano ma sì, non con tanta allegria, l'ho presa molto come un lavoro perché alla fine deve essere anche un lavoro quindi a volte capita di tatuare roba che non mi fa impazzire ma cerco di farlo sempre al meglio. Grazie, grazie a parte di tutti e tre. Grazie a voi. Non so se ci sono altre domande, se anche tu vuoi aggiungere qualcosa invece? Ma io sono contento così, sono al posto così. Va bene, allora io ti ringrazio per tutta questa chiacchierata, questa conversazione in cui insomma abbiamo imparato tanto, almeno io ho imparato tante cose e anche ho aperto gli orizzonti insomma perché abbiamo anche molto per scontato quello che c'è dietro, il solito. Quindi grazie, grazie ancora. Grazie a voi, grazie davvero. Grazie a tutti gli ospiti. Voglio passare anche un attimo la parola a Claudia in maniera tale da ricordare i prossimi appuntamenti. Intanto ringrazio molto Leo perché veramente io di questo argomento sapevo pochissimo e l'ho trovato molto interessante anche per incompetente, persona incompetente. Quindi grazie mille. Grazie a voi. E poi si ricordi i due appuntamenti di domani perché almeno uno dei due secondo me è anche adatto al pubblico di oggi, ma forse mi sbaglio. Il primo è quello alle 17, che è l'incontro con Riccardo Pirrone, che è il social media strategist di Taffo e quello che ha pubblicato il libro di recente Taffo, Ironia della Morte e che è quello che pubblica su Facebook e sui social un sacco di pubblicità molto ironiche e molto anche impegnate per questa ditta di pompe fune di Taffo, insomma. Penso che l'ho conosciuto in molte, è stato qui anche l'anno scorso, a passe tra passe dell'edizione scorsa e ritorna col suo libro, presentando il suo libro alle 17. E poi il secondo incontro è più particolare, strano, in relazione al tema di quest'anno che è la morte virale. Abbiamo avuto parecchi contatti con Bergamo dove l'anno scorso l'epidemia si è manifestata in maniera particolarmente violenta e doveva venire a parlarci e quindi sarà in streaming Daniela Tagliocchi che è quella che è incaricata di curare la predisposizione dei necrologi sull'eco di Bergamo e che scrive quindi i necrologi. È un'appassionata anche lei del tema morte che ha studiato nella sua vita in vari modi ma mi diceva appunto che i necrologi che sono usciti sull'eco di Bergamo in questo periodo, nel periodo dei mesi scorsi di pandemia, di una elevatissima mortalità a Bergamo che erano pagine e pagine sul giornale, avevano un significato molto particolare a livello della comunità perché era l'ultimo saluto a persone che erano letteralmente scomparse dalla vista della comunità che poi ricomparivano per un ultimo saluto solo sui necrologi e credo che sia un incontro molto interessante quello è domani sera alle otto e mezza e poi gli altri, degli altri parleremo in futuro. Ecco, grazie mille.